La malattia per quanto si faccia di tutto per guarirla, per quanto si faccia di tutto per alleviare la sofferenza, per quanto si faccia di tutto per rassicurare il paziente, per quanto si dica che la malattia è un fatto naturale, ma è sempre un'esperienza che sconcerta, che suscita rabbia, che genera paura. La malattia resta un male. La morte, per quanto si possa dire che è naturale, per quanto si possa renderla dolce, resta sempre una tenebra che spaventa. Le malattie del corpo e della mente, la morte per vecchiaia o tragicamente prematura, provocano sempre come un enigma insolubile. E dicono l'umanità è ferita, l'umanità è malata, l'umanità è mortale. Perché? Per colpa di chi? Ecco l'insolubile enigma. Sono stati dunque convocati i sapienti, gli esperti, i maghi, gli scienziati, gli indagatori di ogni disciplina. Quale rimedio all'insidia del male che angoscia l'umanità? E si fece avanti allora il sacerdote. Figli degli uomini, siete dei disgraziati, voi bestemmiate, voi trasgredite la legge di Dio. Come potete meravigliarvi se vi capitano delle disgrazie? Dio è arrabbiato con voi. Cercate di farvelo di nuovo alleato, ci vogliono sacrifici di capri editori, offrite quanto di meglio avete, forse Dio si pentirà del male e vi risanerà. E infatti gli uomini offrirono sacrifici e ogni cosa perfetta, ma non è che con questo si vide un progresso. La gente continuava ad ammalarsi e a morire. si fece avanti il sapiente. Figli degli uomini, voi siete degli ignoranti, diventate saggi, siate superiori al bene e al male. Il male fa parte della vita, come il bene. Imparate la sublime imperturbabilità dei saggi. Infatti si sforzarono uomini e donne di essere imperturbabili, ma il male restava male. E assaliti dal male, gli uomini e le donne continuavano ad essere infelici, ad ammalarsi e a morire. Si fece avanti il grande scienziato. Figli degli uomini, il vostro corpo è come una macchina. Capita che si guasti. Ci vuole il tecnico che la ripari. Abbiamo trovato molti rimedi, abbiamo medicina e tecniche che risolvono molte malattie e più ancora ne troveremo. È solo questione di tempo. Sostituiamo i pezzi rovinati con pezzi anche migliori. La macchina si aggiusta. E infatti tutti ricorsero al grande scienziato. I rimedi trovati erano però di meno delle malattie che c'erano. E la gente continuava ad ammalarsi, a protestare e a morire. Nessuna pratica dunque guarisce l'umanità malata. Non una pratica. Ma la parola di Dio dice una grazia. Non un protocollo. Non un rito. Non un sacrificio. Ma il dono. Come scrive la lettera agli ebrei. Siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo. Una volta per sempre. Come dire che è Dio stesso che desidera rinnovare l'alleanza con l'umanità. E desidera rivelarsi non come il Dio arrabbiato della fantasia degli umani. Quel Dio arrabbiato che forse ci si può rendere propizio con qualche pratica religiosa. Dio si rivela invece il padre che desidera che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità e vivano la gioia di essere figli. Il desiderio di Dio di salvare si compie nell'offerta di Gesù. Quindi non si tratta di un rimedio fatto di cose, di operazioni, di prestazioni. È il dono che Gesù fa di sé, che diventa la via che l'umanità può percorrere per ritornare al padre. La guarigione dalla malattia è desiderabile, è necessaria, è un dovere, ma è un sollievo di un momento, con la certezza che presto arriverà un'altra malattia che sarà invincibile e confermerà ancora una volta che la morte è invincibile. Ma la guarigione della malattia può essere non solo un risultato della scienza e della tecnologia, non solo una terapia della mente e del corpo. La guarigione è un segno, il segno della salvezza, della morte che è vinta, della grazia che santifica. Il dono di Gesù riempie di grazia la tribolata vicenda umana e abita la storia non come un destino nel quale tutti prima o poi ci si ammala e tutti prima o poi si muore. La grazia che viene dall'alto abita la storia per dire che è la storia della libertà. E l'annunciazione a Maria è la festa che celebriamo perché in questa singolarità straordinaria, unica, che è l'annuncio a Maria, c'è in realtà la rivelazione di come la salvezza si compie secondo il desiderio di Dio. L'annunciazione rivela che la via che Dio ha scelto per porre rimedio al male che insidia l'umanità è la via di Gesù, l'amore che si dona, la scelta di mettersi a disposizione perché l'amore di Gesù raggiunga tutti i figli di Dio. È la grazia di amare come Gesù, per vivere come Gesù, per morire come Gesù e risorgere con Lui. La salvezza che Dio opera non mette al riparo dalle malattie ma rende possibile viverle amando. Non rende facile la vita ma rende possibile attraversare le difficoltà amando. Non impedisce alla morte di aggredire la vita ma rende possibile vivere anche la morte come un atto d'amore. La salvezza non è un intervento portentoso che trasfigura la terra in un paradiso ma è la vocazione a trasfigurare la vita in una dedizione d'amore. La parola di Maria è la parola attraverso la quale la salvezza entra nella storia degli uomini e delle donne di sempre. Eccomi, eccomi per rispondere alla mia vocazione, eccomi per fare della mia libertà una decisione di amare. Eccomi, dice lo scienziato quando interpreta la sua scienza come un servizio. Eccomi, dice il sapiente quando interpreta il suo sapere come un servizio. Eccomi, dice il sacerdote quando interpreta il suo servizio come un'apertura all'opera di Dio. Noi siamo qui a celebrare la festa di questo eccomi con cui la salvezza è entrata nella storia e siamo qui a contemplare quante volte questa parola eccomi è stata detta dalla professionalità, dalla sapienza, dalla scienza, proprio in questo luogo. Quante volte questa parola eccomi è stata detta dai benefattori della casa della cura, della casa della ricerca. Eccomi. E dunque la nostra vita si salva perché in ogni situazione è possibile vivere un'occasione per amare e in ogni amore è seminato un principio di vita eterna perché è l'amore di Dio che ci rende possibile amare e l'amore di Dio è quell'amore che vince la morte e che vive anche il soffrire come una possibile rivelazione di quale prezzo si è disposti a pagare per le persone che si amano.